Sembra finalmente farsi meno rovente l'estate calda della pallavolo piacentina. Ieri il presidente del Copra e Lior, Guido Molinaroli, ha deciso di iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie A1 con i biancorossi che giocheranno anche Supercoppa Italiana e Champions League. Ora parto per una breve vacanza e quando torno, tra una settimana, sarò più chiaro su questa decisione. Sono state le sue poche parole senza alcun accenno al possibile socio-sponsor che lo affiancherebbe nella nuova avventura. In attesa di capire chi ha Mister X e che ruolo eventualmente avrà in società, ai tanti tifosi piacentini basta sapere che il Copra Volley il 18 giugno presenterà l'iscrizione al campionato 2014-2015, il suo tredicesimo consecutivo in A1, il primo con la Superlega e le licenze. E proprio questo fatto delle licenze, con ogni probabilità, ha spinto il presidente a decidere alla fine di non gettare la spugna e a iscrivere comunque la squadra. Con quale ambizioni, che allenatore e quale rosa è ancora un'incognita? Ma c'è da credere che se Molinaroli ha deciso di proseguire, ha pronto un piano credibile. Papi, Zlatanov, Leroux, oltre a Tencati, sono una solida garanzia da cui partire. Certo, a questo punto, anche il ritorno a casa base di Massari, la scorsa stagione protagonista Città di Castello. L'iscrizione del Copra e Lior sblocca anche la questione palabanca, con la Rebecca in ormeccanica che quindi dovrebbe presto firmare l'accordo per l'utilizzo triennale della struttura.